Dopo la sconfitta di Carrara, la lucchese torna al Portelisa. Avversario di turno, la capolista Spal, che ha chiuso il girone di andata in vetta alla classifica in piena solitudine. Non una prova d'appello per i rossoneri, ma un crocevia fondamentale che servirà per capire di che pasta sono fatti i giocatori di Mr. Lopez. Un impegno difficilissimo, in virtù della forza degli estensi, la cui rosa, assieme a quella del Pisa, risulta di gran lunga la più attrezzata di tutte le altre del girone. Ci sarà poi da capire se la colpa della sconfitta dello Stadio dei Marmi è davvero da collegare al troppo elevato numero di interviste dei giocatori che ha indotto la società al silenzio stampa, oppure se le quattro vittorie precedenti hanno solo in parte mascherato i problemi della lucchese. Infine c'è il capitolo mercato. Con l'arrivo di botta, Giovanni Galli ha messo a segno un bel colpo. Ora però serve sfoltire i ranghi, in questo caso composti in gran parte da giocatori contrattualizzati e spesso con pluriannali. Le richieste di rescissioni di solito provocano pericolosi mal di pancia nello spogliatoio, un pericolo in più che Mr. Lopez si trova a dover gestire proprio quando sta per arrivare la prima della classe.